Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand di Matipay, l'azienda italiana che si occupa di soluzioni e sistemi per il pagamento e siamo in compagnia di Matteo Pertosa, il CEO dell'azienda Matteo benvenuto, ciao piacere, mi piace essere qui Matteo allora voi siete qui con uno stand molto bello dove ci sono alcuni cartelli che mostrano in che modo funziona Matipay e qualche distributore automatico attraverso il quale il vostro personale sta mostrando con esattezza in che modo interagisce con i telefoni la memoria del distributore automatico Certo, la nostra missione è quella di aiutare i nostri clienti che sono i gestori della distribuzione automatica nel percorso di trasformazione digitale, quindi da un lato li supportiamo abilitando il pagamento cash, cashless ai prezzi distributori e in più ovviamente lavoriamo per utilizzare le nostre soluzioni hardware e software per efficientare l'operatività di gestione dei distributori e creare delle nuove linee di ricavo Alle nostre spalle per esempio c'è un panel che racconta i recentissimi lanci che stiamo facendo proprio in questi giorni per abilitare i distributori automatici al pagamento di bollettini Pago.pia o all'acquisto di gift card digitali come una ricarica Netflix piuttosto che una ricarica Amazon Questi sono degli nuovi servizi che portano un contributo al gestore senza nessun tipo di investimento praticamente soltanto utilizzando i sistemi Matipi È un'evoluzione del semplice sistema di pagamento che fino a pochi anni fa era una semplice interfaccia che aveva delle chiavi e o un sistema per andare a pagare una consumazione al distributore automatico Nel passato era stato fatto qualche tentativo per pagare bollette o abbonamenti televisivi e così via ma non hanno avuto grande successo In realtà nel vostro caso c'è un'interazione importantissima quello con Pago.pia Assolutamente, siamo partner di Pago.pia attraverso questo progetto che vede noi è una importante banca che si chiama Illimiti che è stata fondata da Corrado Passera l'ex ministro dello sviluppo economico e ex anche amministratore legato d'intesa di qualche anno fa che in un'accordata a cui ha partecipato anche un'altra società che si occupa sempre di gestione di telemetria ci permette di aprire questo servizio agli oltre 40 milioni di persone che in Italia da un lato utilizzano i distributori automatici e dall'altro utilizzano il sistema Pago.pia Io direi che è solo il primo passo verso un futuro dei sistemi di pagamento che evolveranno ancora di più anno dopo anno È sicuramente un primo passo importantissimo facciamo questo lancio che abilita già decine di migliaia di distributori e questo servizio raggiungerà già milioni oltre un milione di utenti finali e quindi di fatto abilitiamo il vending a una nuova stagione Matteo grazie voi potrete saperne di più andando a consultare il loro sito internet www.mantipay.com però insomma contattateci naturalmente e noi nel frattempo continuiamo per andare a scoprire tutte le altre novità documentandole con telecamera e microfono come ogni biennio Matteo grazie a presto grazie a voi grazie a voi